E' terribile Monica, secondo me le cose terribili ce ne sono altre Friday, oggi è 15, domenica è 17, fuori fa discretamente freddo 50 persone che vengono, grazie, alla coperta per scoprirci due a Villa Glori Viale Pilsuschi, zona Parioli, vicino al Baretto però metto una foto della Lamborghini, a 700 mi piace per carità, il weekend è sacro, se devi andare a montagna facce se devi andare allo stadio facce anche se finisce alle due se devi andare a trovare i tuoi fuori, se hai bisogno di stare a casa ma se tutto ciò non c'è, obiettivamente insomma se hai un tetto sopra la capoccia, se hai la smartina che papino e mamma hanno comprato se hai una tipo questa che è una moglie che ti stira, ti cuce, ti accudisce le figlie la madre cucina, lavora e non vieni magari a Villa Glori, ma non perché c'è sto io, non per me per te, perché fa bene a te fare qualcosa per qualcuno perché fuori fa freddo, mammina, papino, privilegi, smartina, telefonino e a non portare una coperta per risenza detto moderatamente schifo fai cioè l'importante è che uno sappia la coerenza è che io mi guardo allo specchio e faccio moderatamente schifo perché sto sovrappeso però una puntina di consapevolezza la che fa niente in portino va a moderare non so per quale motivo però ci viene a portare coperta la prima che mi dice dottoristoria, anzi dottorino perché non lo suono invece quando mi prende il giro mi chiamo dottoristoria posso venire, cioè porta le figlie inculca nelle ragazze la cultura del sociale un pochettino e allora se non devi andare allo stadio se non devi partire se non c'hai febbre se non devi andare a mangiare da mamma e papà se mamma e papà ti hanno fatto la magna però poi ci può passare prima se ti stiri nelle camicie se ti hanno un po' da smart se ti hanno un po' del telefonino se c'è una moglie che pensa a te se c'hai otto donne che pensano a te perché sei un animale se con dove sto male la coperta per coprire in senso di te e te pulisci la coscienza se no fai moderatamente schifo lo bello dico giusto oh e allora sì venerdì a Villa Glory stavamo dieci minuti insieme non è per me è perché egoismo massima espressione d'autorismo fa bene a te toccare con mano il fare qualcosa per qualcuno pulisci la coscienza poi lo puoi pure in un giro forse il fenomeno sono andato a fare qualcosa per qualcuno wow io faccio beneficenza fai il fenomeno strumentalizzali strumentalizzali ma dammi una mano che fuori fa freddo e chiove io me ne vado a lavorare lei pure per il vostro stipendio oggi è friday due giorni fa una persona 42 anni non ci sta più due mesi mi hanno detto fuori dai baron non te lo meriti che sta qua 42 di che stiamo a parlare viva la vita grazie a tutti grazie a tutti